Parliamo finalmente di autostima, argomento che mi viene richiesto praticamente da anni e anni e anni quindi finalmente c'è una risorsa dove andiamo a espandere un po' più nel dettaglio il discorso autostima Notizia ufficiale, dopo 4 anni e 10 mesi di indagini abbiamo scoperto la formula più facile e veloce per un uomo normale per finire letto regolarmente con nuove ragazze, anche se non hai mai avuto grandi risultati e anche se non sei bello, ricco o rocco La formula TSP ha già funzionato per 1257 uomini e funzionerà anche sui tè, altrimenti è gratis Scopri come installarla nella tua vita grazie al supporto personalizzato del nostro coach ufficiale nella nuovissima Coaching Platino Per maggiori informazioni clicca sul link qui sotto in descrizione Hai tempo fino al 30 maggio o fino all'esaurimento dei 10 posti disponibili Qua scendiamo un po' più nel dettaglio per il come sviluppare specificatamente un'autostima solida Per chi non sa cosa è l'autostima ci possono essere varie definizioni, non ci interessano le definizioni da dizionario Semplicemente l'autostima è la considerazione che tu hai di te stesso, la stima che tu hai di te stesso, il come tu vedi te stesso Quindi è chiaro che se ti vedi come una persona di valore agirai in un certo modo Se ti vedi come una persona che fa schifo agirai in un modo diverso Molto banalmente, giusto come questo esempio mi è venuto in mente adesso e non l'hai neanche preparato Un amico con cui uscivo ai tempi, diciamo 2016-2017 Lui era molto bravo per la parte in discoteca Quando l'ho conosciuto lui andava già in contemporanea 5 scopamiche Tutte conosciute in discoteca E agli occhi della maggior parte delle persone non era bello Era accettabile, poi lui diceva che era brutto Però in realtà magari lo diceva per scherzare Perché comunque aveva una testina molto 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 solida Adesso ti dirò magari anche come l'ha sviluppata E però esteticamente fisicamente era un 6 Era anche pelato per la gioia di tutti quelli che si segano nel cervello Ma io sono pelato, sto prendendo i capelli Per chi si sente in difetto perché sta prendendo i capelli E' basso, te stavano stronzate Se non è questo il corso Ma in realtà non sono cose da trattare in un corso Perché sono pippe mentali Ci sono i miei video gratuiti che vanno a risolvere queste pippe mentali Ma uno quando perde i capelli Che poi si sente più insicuro Non è che sono i capelli che adesso che mancano ti fanno sentire insicuro E' che semplicemente non hai mai sviluppato un'autostima solida Perché anche un altro ragazzo con cui uscivo a approcciare agli inizi Però l'ho conosciuto nel momento in cui stava proprio perdendo i capelli Ok? E fra l'altro dopo uno o due anni che uscivamo a approcciare insieme Ho conosciuto una, si è fidanzato, sono sposati adesso E hanno anche una figlia Ok? Ero una delle persone che mi aveva insegnato principalmente quando ero inizi A livello di persone con cui uscivo ad approcciare Ok? Quindi dipende tutto quanto dall'autostima L'autostima poi si traduce anche in sicurezza interiore Quando poi ti approcci con le ragazze Quando sei in situazioni in generale di vita Quindi ne deriva poi la sicurezza interiore dall'autostima Comunque tornando a questo ragazzo qua che mi ha detto che aveva 5 scopamiche In contemporanea esteticamente possiamo dire che era un 6 Niente di che Non aveva i capelli E anche non era particolarmente alto Questa è proprio per la gioia di tutti quelli segati mentalmente E però uscivamo anche insieme ad altri ragazzi in discoteca E c'era un altro che invece lui era alto 1,90 Belloccio Il classico ragazzo bello E che però non c'è Andava a letto ogni tanto con qualche ragazza Però a livello di risultati Era totalmente imparagonabile L'altro ragazzo invece aveva contemporaneamente 5 scopamiche Che ogni sera che andava in discoteca Magari non faceva sesso tutte le sere che andava in discoteca Però quasi Ok? E che differenza c'era? C'era una differenza di autostima enorme Lo vedremo poi anche adesso tra poco Il dialogo interiore Il come parli a te stesso Mi ricordo che questo ragazzo qua Alto 1,90 Belloccio eccetera Aveva un dialogo interiore molto negativo Tutte le volte che andava a parlare con una ragazza Però ci andava che soffria Cioè Va bene dai andiamo Cioè proprio l'ho sofferto Aveva un dialogo interiore negativo Mentre l'altro Apparentemente sfavorito Che non è quello Che non c'entra l'aspetto fisico L'essere basso, alto, calvo O altre cose Ma aveva un'autostima assurda È una roba assurda E uno dei modi Il modo principale in cui l'ha sviluppata Questa autostima assurda Era tramite il fare quello che dice Che adesso lo vedremo tra poco Nei vari modi pratici per sviluppare l'autostima E lui aveva fatto una cosa simile A quella che ho fatto io Quando sono uscito per 365 giorni di fila Ad approcciare nel mio primo anno E lui aveva fatto la stessa cosa Però in discoteca Però per 96 di fila Anche perché uscire 365 notti di fila in discoteca Non so se sia fisicamente fattibile Non lo so Però sicuramente è anche fattibile Però se poi non devi fare niente Il resto del giorno Lui invece lavorava anche di giorno Non si svegliava poi alle 7 per andare al lavoro Quindi ha fatto questa cosa per 90 serie di fila Fare una roba del genere Sicuramente magari va a danneggiare anche molto la salute Non invito nessuno a fare questa cosa Però è una cosa che sviluppa Costruisce un'autostima veramente assurda 90 serie di fila Qualsiasi cosa accada E con il fatto che lavora anche di giorno Si costruisce poi dopo un'autostima assurda Puoi immaginarti quanta autostima ho sviluppato Nel fare i 365 giorni di fila Ok? Il primo pezzo di autostima Che andando a provare a ripercorrere indietro la mia vita Il primo pezzo di autostima che ho costruito È stato quando effettivamente mi sono messo E avevo 14-15 anni più o meno E mi sono messo in un anno e mezzo Ho perso circa 20 kg Lo sport ero nel sovrappeso E in un anno e mezzo mi sono messo a allenarmi tutti i giorni A mangiare meglio tutti i giorni E soprattutto quando ci sono i momenti difficili Do tutti ti rompono i coglioni a tavola Perché non mangi? Ma cos'è? Perché ovviamente tutti quanti magari Se magari sono anche in una forma fisica non desiderata O magari anche in sovrappeso Non lo sanno come si mangia correttamente Quindi c'è anche lì la sfida Otti i giorni A sentire la gente ti rompe i coglioni a tavola Avevo 14-15 anni Quindi vivevo con i miei Ho trovato famiglia del sud Quindi puoi immaginarti Se non mangi o mangi poco Subito tutti quanti ti chiedono stai male Stai morendo Quindi anche tutte queste varie cose qua Sono tutte quante le sfide Anche l'affrontare le sfide Superare le sfide Passare le difficoltà Sono cose che costruiscono l'autostima Adesso vedremo tutte quante queste cose nel pratico In realtà questa era un'insalata di parole In realtà che non era neanche prevista Quindi un'autostima solida Ti permette di non abbatterti Quando le cose vanno male Quindi perché le cose andranno male Ci saranno anche dei momenti in cui le cose andranno male Le cose andranno bene Come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti Però ci saranno anche dei momenti in cui le cose vanno male E se hai un'autostima che non è solida Si tende poi a mollare Si tende ad abbattersi Quindi normale va bene Ma continua ad andare avanti Perché affrontando le sfide E passando attraverso le difficoltà Si sviluppa sempre di più un'autostima solida Quindi un'autostima solida Ti permette di non abbatterti Quando le cose vanno male Soprattutto un beneficio molto importante Di un'autostima solida È che ti toglie la paura e il giudizio degli altri Questa è veramente una malattia assurda Sto scherzando, non è una malattia vera Lo dico perché poi alcuni sono segati mentalmente su queste cose Però è veramente una roba assurda La paura e il giudizio degli altri Ti rovina la vita in una maniera assurda Non fai niente per paura di cosa penseranno gli altri Soprattutto la maggior parte delle volte È paura del giudizio di persone che non conosci neanche La paura di approcciare una ragazza in discoteca Una ragazza di giorno per strada Fondamentalmente non è una paura il giudizio di chi? Di tuoi amici? Non ci sono lì Cioè di base si fai in giro l'approcciare di giorno A meno che non ti porti dietro dei tuoi amici Di base non sono lì Ok? Tante volte è proprio paura del giudizio di sconosciuti Di gente che non c'entra niente con la tua vita Di gente che tanto non rivedrai neanche mai più Questo può essere anche un trucco di mentalità a ricordarsi Tanto poi non li rivedrai neanche più Le persone che sono intorno Non so quale sia il dato Però non so Avevo letto tanti anni fa Un dato che le persone che incontriamo Nella vita di tutti i giorni Che le persone che ci passano intorno Nella vita di tutti i giorni Statistemente proprio non le rivedi più Per tutto l'arco della tua vita Quindi non so L'avevo letto così tanti anni fa Mi è venuto in mente così adesso Non è importante Quindi fondamentalmente L'autostima come ho detto È la considerazione di te stesso Mettiamo che questa sia L'autostima È questo livello E essendo magari un'autostima bassa Il giudizio che hanno gli altri di te Quindi la considerazione che gli altri hanno di te È più alta E quindi per quello soffre il giudizio degli altri Perché la considerazione invece tua di te stesso È più bassa Ma nel momento in cui alzi l'autostima Lavori sull'autostima Quindi sulla considerazione che hai tu di te stesso La considerazione che gli altri hanno di te Che non ti attacca più Non ti tocca più Non c'era proprio nessun senso Alcuni di volte mi chiedono Ah ma come gestisci gli haters? Come gestisci? Non so Un paio di anni fa Forse anche di più Ero andato a un'intervista Con degli idioti Poi mi hanno fatto anche un video Tra virgolette Diffamatorio C'è tipo 180.000 views su YouTube Non so Dei deficienti Non stiamo qua neanche a nominarli E Alcuni ancora ad oggi mi chiedono Ah ma come hai reagito Quando c'è stata quella tempesta di merda Di odio Insulti Dico ma in che senso? Come la gestisci? Boh Non l'ho neanche guardata Sì il video l'ho guardato E basta Ma non Come la gestisci? Niente Non me ne frega Non trovo nessun tipo di riscontro Di senso nella mia testa In che senso? Cosa? Boh C'ho altro da fare Sto facendo altro Non sono a contatto Con questa dinamica Non me ne frega niente Ok Poi è anche un esercizio Conscio Nel mio caso Essendo un formatore Essendo esposto pubblicamente Ho anche magari La tentazione Magari di vedere Cosa pensano le persone Questa è una cosa che faccio già Da più di un anno Di non guardare i commenti Sotto i video di Youtube Di non guardare i commenti Dove ci sono le pubblicità Non guardare in generale So sicuramente Perché me lo riportano Altri che magari mi seguono Mi riportano Ci sono forum Gruppi Facebook Di gente che Insultare A sparlare A fare A parte Non so Non entriamo qua In questo discorso Però Ho altro da fare Non trovo nessun tipo Di riscontro Nella mia testa Perché? Perché ho una tostina solida Quindi non capisco Che cosa Sto facendo le mie cose Non vedo Che ci sono gli altri Che parlano Perdono tempo Cioè Le persone Che perdono tempo A insultare A criticarti E eccetera Tu pensi Che siano veramente persone Che faranno qualcosa nella vita Che siano veramente persone Che hanno una vita Soddisfacente Che hanno in questo caso Siccome Stiamo parlando Comunque alla fine Ok La mentalità Essere più alfa Sicurezza interiore Però poi Per avere maggior successo Con le donne Poi tutte queste cose In realtà Si applicano anche Agli altri ambiti di vita Però Io mi occupo di Mi rendere sentientare Insegnare a saperci fare meglio Con le donne Quindi tu pensi Veramente a queste persone Che magari possono criticarti O possono criticare Siano persone Che hanno risultati Con le donne Che sono in grado Di uscire Quando vogliono E portarsi A una ragazza Che veramente Li soddisfa Anziché andare soltanto A troie Oppure soltanto Andare con ragazze Che sono dei cessi Esteticamente Ogni tanto Quando capita Nell'arco della vita Che pensi Che siano persone Che hanno veramente Una relazione Di coppia felice Se avessero Una relazione Di coppia felice Non sarebbero lì A parlare A sparare degli altri Perché le persone Che hanno una vita felice Sono troppo occupate A vivere la propria vita Per essere a commentare Sotto un video Insultare qualcuno Io non ho mai commentato Un video youtube Di nessuno Nella mia vita Non ho mai Messo un commento Di insulto Non ha senso Perché sono troppo occupato A vivere la mia vita Ok Quindi Adesso questa è giusto Una piccola parentesi Sulla paura del giudizio Di altri Non ti preoccupare Le persone che ti criticano Tanto le persone Che ti criticano Sono esattamente Persone che sono Cento livelli sotto di te A livello di risultati Di vita Non avendo un cazzo Di niente a fare Nella vita Passano la vita Semplicemente a criticare A insultare Perché non Non sanno cosa fare Non c'hanno niente a fare Sono lì comunque Non entriamo adesso In questo discorso Che è il discorso Paura del giudizio Gli altri Però appunto Uno dei modi Per superare La paura del giudizio Gli altri È appunto Innalzare la tua autostima Un altro dei benefici Dell'autostima Qua ancora non siamo arrivati A tutti i vari concetti Di tutti i vari esercizi Tutte le cose pratiche Che si possono fare Per sviluppare l'autostima Adesso ci arriviamo tra poco E uno dei benefici Dell'autostima È che ti permette Di smettere di rimandare Quindi In realtà Funzioni anche al contrario Che più rimandi Più la tua autostima Quindi più rimandi Sugli obiettivi Sulle cose Della tua vita Che sai che vorresti fare Che ti interessano Però più rimandi Più la tua autostima Si abbassa E più si abbassa Più continui a rimandare Quindi è un circolo Non so come dice Non so Un vortice Che va sempre di più Verso il basso E si spezza Con lo sforzo Dicendo Porca di una merda D'oggi in poi basta Non da domani Perché anche domani Dire da domani inizio È rimandare Ok Vabbè Ogni anno faccio una Non so se la farò Tutti gli anni Questa cosa Però tutti gli anni Faccio una live su youtube Il primo lunedì di settembre Che due o tre anni fa L'ho inaugurato La giornata internazionale Dei procrastinatori Il primo lunedì di settembre Ogni anno faccio una live su youtube Dove parlo Della questione Del rimandare E appunto Più rimandi Più poi la tua autostima Si deteriora Comunque Lo spezzi Sforzamoti Quindi dicendo Fanculo Non è da domani È da oggi Cambia la vendita Da oggi inizio A fare delle azioni nuove Chi dice Da lunedì inizio Da settembre inizio Da gennaio inizio In realtà sta confessando Che non ha veramente Intenzione di iniziare Perché se hai intenzione di iniziare Inizi oggi Io quando inizio un obiettivo Un progetto Un qualcosa Non mi chiedo mai Che giorno è Le persone Che veramente Stanno progredendo nella vita Che hanno obiettivi Che fanno cose In realtà Non sanno neanche Che giorno è Io non so oggi Che giorno è Ci devo pensare un attimo Per capire un attimo Che giorno è So che siamo Che mese è So che anno siamo Però non so In che giorno Della settimana siamo Ok Puoi notare questa tendenza In persone che raggiungono Gli obiettivi Nella vita Ok Giusto Tutti i piccoli dettagli Non segarti mentalmente Troppo adesso su questo Quindi Un'autostima solida Ti permette di smettere Di rimandare Però è anche al contrario Che smettendo di rimandare Costruisci l'autostima Ok E quindi poi È una spirale Che si autoalimenta Come anche Invece al contrario È una spirale Che va sempre di più Verso il basso Anche un'altra delle cose Dell'autostima È che le persone Con un'autostima bassa Uno dei problemi È che non credono Poi neanche Di poter migliorare Nelle cose di vita Pensano di essere vittime Della vita Pensano che Sono nato così E non posso farci niente Io non posso migliorare Mi vengono riportati Dal mio team Ora appunto Non leggo più i commenti Sotto i video youtube Da più di un anno Poi in realtà Qualche volta Mi capita di Di sgarrare Così Qualche volta magari Guardo Qualche volte magari I commenti sotto Alcune video testimonianze Di che ho fatto I corsi a vivo Perché mi piace sempre Vedere le perversioni Mentali Delle persone Però una volta ogni tanto Ok Perché se no Poi ti condiziona Non sono questi Non è importante Sottrattare questo discorso E tante volte Vedo sotto Le video testimonianze Dove magari C'è lo studente Dice che si è portato Della ragazzetta Dove c'è anche proprio Il filmato Dello studente Che approccia la ragazza Che si bacia Che poi entra in casa Quindi proprio Più chiaro e cristallino E così Più dimostrazione Di così Non si può Eppure c'è le persone Che dicono È impossibile È finto E poi di solito Quei sono semplicemente Persone che insultano Però vedo anche Tanti delle volte Che dicono Ah bello Complimenti allo studente Però io E poi dicono Le loro scuse Del perché Non potrebbero farcela mai E ho visto questa cosa Tante volte Sotto nei commenti Di varie video testimonianze Di chi ha fatto I nostri corsi a vivo Che cos'è quella? Semplicemente Bassissima autostima E anche io Nonostante Si vedono delle prove Delle dimostrazioni Che si può fare Che da zero Persone come te Da zero Sono passati A esperti A portarsi a letto A diversi ragazzi A entrare in una relazione A vivere felici I rapporti con le donne Nonostante si vedono Delle dimostrazioni Di queste cose E un'autostima bassissima Ti porta a pensare Però io Non potrei mai farcela Ok Quindi Compito tuo Andare per passi Lo vedremo Poi ci sarà anche Una lezione successiva Dove parleremo Della questione Delle piccole vittorie Deve andare per piccoli passi Dove vedremo poi Nella lezione successiva Per compito tuo Andare a lavorare Sull'autostima In modo che poi Inizi a vedere I passi avanti Possibili Ok E di conseguenza Poi fino A un passo per volta Poi gli obiettivi finali Di portarsi al ragazzetto Entrare in una relazione E tutte le varie cose Che possono esserci dopo Ok Quindi Questa era diciamo Una piccola Barra medio-lunga Introduzione Quindi Andiamo a vedere Alcune cose pratiche Alcuni modi Alcuni modi pratici Di andare a costruire L'autostima A sviluppare l'autostima Quindi E invito poi In realtà ad applicare Queste cose Perché In realtà non sono tantissime Le cose che vedremo Non so Vediamo quanto verrà lunga Questa lezione Ma non sono tantissime Le cose che andremo a vedere Quindi si potrebbe Poi avere la tendenza L'ho già vista Delle altre persone Di ok L'ho vista Lezione corso Ma c'è un altro modo Un qualcos'altro No Non c'è Devi applicare Queste merda di cose Ok Per esempio Per l'ansia d'approccio Io per chi ha il videocorso Dall'approccio alla camera letto Sono 5-6 ore Dove parlo di ansia d'approccio Più ci saranno Un sacco di video Di youtube gratis Dove parlo anche di altre Piccole cose Riguardo all'ansia d'approccio E ancora Ci sono persone Che mi chiedono Come si Anche persone che hanno già visto Tutta quanta la parte Di 5-6 ore Dentro il videocorso Mi chiedono Ma come ci lavoro Sull'ansia d'approccio Io non so più che dire E tutto quanto lì Basta applicarle le cose Ok Quindi anche qui Potresti avere la tentazione Poi a dire Ok ma ci sono altri modi C'è qualcosa altro Cosa posso fare di altro Non devi fare nient'altro Devi fare queste cazzo Di cose che adesso andiamo a vedere Ok Quindi Modo principale Per sviluppare l'autostima Fare azioni giuste In direzione dei tuoi obiettivi Già solo con questo Sviluppi un'autostima Che Ti basta questo Ok Però bisogna farlo Quindi azioni giuste In direzione dei tuoi obiettivi Quindi innanzitutto Avere degli obiettivi Di vita Quindi vivere Di obiettivi Anziché vivere Di speranza Sperare che le cose arrivino A un certo punto Le cose non arrivano Le cose non sono animate Perché se tu devi andare A prendertele Quindi innanzitutto Farti una lista Di tuoi obiettivi Di cose che vuoi raggiungere Nella vita Quindi innanzitutto Fai una lista di desideri Perché gli obiettivi Da te è diverso Un obiettivo è Un desiderio Che è specifico E ha una scadenza Ok Le altre persone Non vivono di obiettivi Vivono di desideri Vorrei avere Un appartamento Più grande Vorrei Non vuol dire niente Dove In che zona della città In che città A che piano Che metratura Deve avere Quanto deve costare Quanti bagni Quante stanze Entro Entro quando Quindi questa è la parte Specifica E poi c'è La scadenza Ok Quindi Inizia a scriverti Una lista di desideri E poi dopo Inizia a Prendi quelli Sono più prioritari Per la tua vita Quelli che impattano Di più In questo momento Nella tua vita E inizia a trasformarli In obiettivi Quindi Voglio migliorare Con ragazze Che cazzo vuol dire Non vuol dire niente Voglio portarmi a letto Una ragazza Entro Non so La fine dell'anno È solo un esempio Voglio portarmi a letto Una ragazza al mese Entro Giorno X Voglio portarmi a letto Tre ragazze al mese Entro il giorno X Voglio trovarmi una fidanzata Entro il giorno X Ok Chiaramente poi Devono essere anche Realistici Adesso questo non è un training Sui obiettivi E devono essere anche realistici Perché poi Se sei a zero Non hai approcciato una ragazza Non puoi dire Entro un mese Voglio aver fatto sesso Con cinque ragazze Possibile Sì Improbabile Se non hai mai fatto assolutamente niente Quindi Devono essere anche credibili E realistici Per quello che tu riesci A credere possibile Quindi per quello bisogna andare Per piccoli passi Comunque Vivere di obiettivi Inizia a scrivere degli obiettivi Nella tua vita E fai azioni giuste In direzione dei tuoi obiettivi Il tuo obiettivo è Perdere peso Cito spesso questi esempi Perché sono gli esempi Quelli sulle tre macro aree di vita Quindi vuoi perdere peso Ok Se fai azioni giuste In direzione di quell'obiettivo Quindi Mangiare più sano E fare più attività fisica Sai che la tua autostima Inizia a crescere Già dal primo giorno Già dal primo giorno Ti sentirai bene te stesso La bilancia Se ti pesi a fine giornata O il giorno dopo Non cambia assolutamente niente Di base il peso sarà lo stesso Però Ti sentirai bene te stesso Perché stai facendo un'azione In direzione In direzione Di tuoi obiettivi Quindi questo lo puoi fare Soltanto se hai messo una scadenza Se non c'è neanche la scadenza Poi se sei esperto Se sei già molto pratico Di obiettivi Puoi anche magari Perseguire obiettivi Che magari sono meno importanti Senza metterti una scadenza Però per gli obiettivi importanti Per la tua vita Devi mettere per forza Una scadenza Quindi ogni giorno Sai se stai progredendo E se non progredisci Se non fai azioni giuste In direzione al tuo obiettivo Il giorno dopo La tua autostima ne risente Ti senti male di te stesso Perché lo sai Che stai facendo un'azione Sbagliata In direzione opposta Al tuo obiettivo Se hai l'obiettivo Di perdere peso E quella sera Ti abbuffi di cibo Nel momento Ti senti magari bene Mentre stai mangiando Ti stai buffando di cibo E però poi dopo Inizia a sentirti In realtà Non bene di te stesso E poi come detto È una spirale Che si autoalimenta Consiglio anche di Per esempio Di scaricarsi delle app Per tracciare le abitudini Niente di assurdo Basta svearsi Un attimo Dove ci sono le tabelle Con il calendario Dove puoi fare la V Se hai rispettato l'obiettivo Oppure dove fai la X Se non hai rispettato l'obiettivo Non darò nessun nome di app Perché ce ne sono 500.000 Basta svearsi Un attimo Altro esempio Nell'ambito ragazze Vuoi migliorare con le ragazze Vuoi imparare a portare A portare le tue ragazze Troverti una finanzata La tua donna ideale Eccetera E dovrai uscire A conoscere ragazze Mi spiace dirtelo So che per tanti È scioccante Devi uscire a conoscere ragazze Sì puoi anche partire Magari con gli approcci online Però se vuoi sviluppare Una vera competenza totale Non puoi saltare Gli approcci al vivo Perché se anche diventi capace Dagli approcci online Ok Arrivi a fare appuntamenti E però non ti sei mai Tolto il tratto Totalmente le paure Perché hai salti La parte iniziale di approccio E vai direttamente all'appuntamento Ok È una strategia che puoi usare Questa l'ha usata Un mio studente Che in realtà Sono rimasto anche sorpreso Perché è una strategia Che io non avevo mai consigliato Però la consiglio qua Perché effettivamente Un mio studente mi ha riportato Che gli è stata molto utile Utilizzarla Dove prima Si è iscritto alle app di incontri Tinder eccetera È diventato capace Con le app di incontri Grazie a altri corsi Che insegnano la questione App di incontri In modo che almeno Ha preso un po' di mistichezza Con le ragazze Quindi ho iniziato a fare Degli appuntamenti Con delle ragazze Ho riuscito ad andare a letto Con qualche ragazza Ad app di incontri E poi dopo ho detto Che adesso vi metto Anche sui approcci al vivo Di giorno Però non da zero Non sono totalmente a zero Perché già ho Comunque interagito un po' Con delle ragazze Quindi sicuramente Fa meno paura Di fare il rispetto A iniziare direttamente Con gli approcci di giorno Io consiglio Se riesci Di buttarti direttamente Con gli approcci al vivo Ci sono altri miei video Dove Gratuiti Dove parlo Se iniziare prima Con gli approcci di giorno Discoteca Online eccetera Non è questo Il contenuto dove parlarne Però può essere una strategia Valida anche questa Quindi Passare prima Dalle app di incontri E poi dopo Buttarsi sui approcci di giorno In ogni caso comunque C'è che sia che esci A approcciare di persona Sia che non esci In qualche modo Dovrai fare Dovrai fare comunque azione Ok Quindi mettiamo Come consiglio Di comunque uscire E conoscere effettivamente Ragazzi anche dal vivo Che sia di giorno Che sia in discoteca E di farlo Con una certa costanza E frequenza Se esci una volta al mese Se non esci proprio E stai facendo azioni In direzione opposta Del tuo obiettivo Per quello in realtà Più tempo passa Più poi L'autostima si distrugge Ok Quindi anche solo uscire Senza l'intento di approcciare Farsi un giro Nel posto dove magari C'è flusso di gente Che sia di giorno Che sia in una discoteca Già solo il fare quel passo È un passo In direzione del tuo obiettivo Continuando poi Dopo si riescono anche a spezzare I giri a vuoto Oppure magari riesci già A approcciare la prima volta Adesso Non è questo L'argomento Tutte queste cose tecniche Che poi sono trattate In altri corsi Però il discorso è Azioni giuste In direzione Del tuo obiettivo Poi un altro modo Per sviluppare Autostima Sono il prendere Decisioni veloci Ok Le persone che Ottengono risultati Nella vita Che raggiungono Il successo Nei vari ambiti di vita Prendono decisioni Velocemente Ok Non importa Se poi ci sono anche Delle decisioni Non sii coerente Nell'arco della vita Delle decisioni sbagliate Però Se su 100 decisioni 51 sono giuste Avrai successo nella vita Ok E prendono decisioni velocemente La maggior parte di volte In realtà Sono decisioni giuste Abituati anche Con le piccole cose E Non lo so Magari ti stai ordinando Del cibo Al ristorante Con un lap Che ti consegna il cibo a casa Non stare 500 ore Ad analizzare il menù Non sai cos'è una cosa Prendila Andrà bene Andrà male Chi se ne frega Ok Se andrà bene Magari il tuo nuovo cibo preferito Che ne sai Tante volte A me succede così Se è andata male Pazienza Sai che Non devi ordinare qualcosa lì Ed è potenzialmente Anzi non potenzialmente E poi anche un argomento di conversazione Che puoi utilizzare Con le ragazze Non ci entriamo adesso In queste cose qua Però gli argomenti di conversazione Derivano anche Dalle esperienze di vita che fai L'imballarsi La vita di novità È una cosa che poi ti dà più vitalità E la vitalità Direi che è piuttosto importante Quando interagisci con le ragazze Quindi decisioni veloci Le persone che hanno successo nella vita Prendono decisioni velocemente Notizia ufficiale Dopo 4 anni e 10 mesi di indagini Abbiamo scoperto la formula più facile e veloce Per un uomo normale Per finire letto regolarmente con nuove ragazze Anche se non hai mai avuto grandi risultati E anche se non sei bello, ricco o rocco La formula TSP ha già funzionato per 1257 uomini E funzionerà anche sui tè Altrimenti è gratis Scopri come installarla nella tua vita Grazie al supporto personalizzato Del nostro coach ufficiale Nella nuovissima Coaching Platino Per maggiori informazioni Clicca sul link qui sotto in descrizione Hai tempo fino al 30 maggio O fino all'esaurimento Di 10 posti disponibili Grazie a tutti